Il valore è ciò che conta, l'essenziale, ciò che fa realmente la differenza senza il quale non vale la pena di scegliere questa o quella cosa. L'idea di valore è formata da due elementi, dal cuore e dalla ragione, da valori che sono sia razionali che emozionali. Io penso che il valore sia nelle persone, in quello che fanno e soprattutto in come lo fanno. Bisogna capire qual è il valore più importante per chi ci sta di fronte in quel preciso momento. Da che punto di vista? Dal punto di vista di chi vende, di chi compra o di chi rivende. Il valore è a infiniti livelli di percezione. Ciò che conta è la specifica percezione del cliente, di quel particolare cliente, sia esso interno o esterno. Il valore per Volvo vuol dire avere la capacità di mantenere le promesse fatte al cliente. Tempo. Efficienza. Emozione. Quanto vale il tempo? Il tempo vale e come se vale. Nella qualità delle riunioni interne, negli incontri con i clienti, tempo a disposizione da trascorrere a casa con le persone a cui vogliamo bene. E l'efficienza. Quanto vale? L'efficienza nei consumi, l'efficienza di un servizio impeccabile, l'efficienza di un team preparato. Ma un'emozione, quanto vale? Il valore di una vita va oltre ogni calcolo finanziario. Ad esempio, parliamo di sicurezza. È impossibile calcolare a priori il costo di un incidente. E tutto questo, quanto vale? Il valore è qualcosa che non si può mettere in fattura. È ciò che, grazie a noi, il cliente vede nella nostra offerta. La differenza che si porta a casa. Il valore è negli occhi di chi ci guarda. Amministratore delegato Volvo Trucks. Direttore Volvo Trucks. Direttore Operation Support.